Il viaggio sta creando, ci sono creati! 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 E' fatto davvero più di... Eh ragazzi, fatela sembrare davvero... E' un po' per la lingua giurale, esiste un po' E ora si è con un modo di partire l'altro Cosa fanno? E' un pezzi bianchi anni sessanta? Mi fa fuori? Sì! Ralleggione! Buon amante, l'aiuto! E' un po' per la lingua giurale Mi dispiace, invece sono certo che... Mi ha dato le istruzioni di cui l'abbagliate... Non è un po' per la lingua giurale Il centro commerciale... Il centro commerciale... ...d'aiutare lei nel prossimo esame... Brutto presentimento! No, è che sarà poi ciao! Ciao! No, è che è brutto... Diciamo guardarci la panchetta... In questa casa lei...